Musica Musica Vado bene, vado bene, vado bene, dai. Si, si. Vado, si. Guardiamo il capo, guardiamo il capo, vedi i suoi video di sempre. Guardate bene. Oh! 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 Buongiorno amici sportivi, buona domenica da Jacopo Segalotto, benvenuti qui in diretta dalla Phoenix Arena di San Martino. Per l'arrivante Fabri, se non so, guardo in mezzo, traversone dentro, la girata! Damien Florian, e la butta dentro lui e porta in vantaggio la Clevense, questa volta è tutto regolare. Ed eccolo qui, il triplice fischio a sancire questa grandissima vittoria da parte della... ... ... ... ... ... Siamo sempre stessi, tutti i nostri voli amici, non importa lì il giudato, questa è la nostra vera. Grazie, bravi, 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 ripartiamo da qui. Grazie.